oggi è mercoledì 11 settembre 2024 esattamente 23 anni fa è successo e oggi nella ricorrenza l'attentato al world trail center dell'11 settembre 2001 o come i nordamericani dicono 911 perché loro mettono prima il mese e poi il giorno che o casualità casualità vuole che 911 anche il numero telefonico dell'emergenza quindi loro ci hanno visto qualche associazione io mi ricordo che vidi in televisione l'attentato già si era schiantato il primo aereo quando accessi il televisore e si stava per schiantare il secondo aereo in quel momento si stava schiantando fu veramente uno schianto prese tutti di sorpresa perché pensavamo erroneamente che gli stati uniti erano una superpotenza invulnerabile a parte per harbour non hanno avuto nessuna aggressione sul loro suolo non hanno mai combattuto una guerra in casa forse non la combatteranno mai tutti noi pensavamo che era un episodio erano delle immagini surrealiste impossibili da immaginarsi eppure eppure sono avvenute allora iniziarono a partire le tesi complottiste perché una superpotenza come gli stati uniti invulnerabile doveva per forza implicare che c'era dei giochi di potere interni forse è stato un autogolpe chissà che cosa o forse si sono messi d'accordo con i cattivoni che hanno organizzato tutto insomma nessuno si voleva arrendere all'evidenza che gli stati uniti erano vulnerabili e poi soprattutto che non erano quella grande superpotenza che sempre milantavano di essere che avevano tutto sotto controllo allora sono comparsi libri come questo di thierry mason la terribile impostura cioè che tanto l'attentato al world train center come l'attentato al pentagono sarebbero state tutte delle montature che gli attentatori che erano semi analfabeti portavano dei sandali avrebbero attaccato i passeggeri e la tripulazione con dei cortellini svizzeri non avevano superato gli esami per condurre un cesna meno che mai per manovrare un jumbo allora si iniziò a pensare che i boeing fossero tele guidati poi si disse pure che avrebbero messo dell'esplosivo negli nelle torri negli edifici le torri cadute furono tre ma il complesso di edifici fu molto più ampio io personalmente col passare degli anni non credo più a questa teoria sebbene qualcosa ci deve essere ma è impossibile che si siano dati un autogolpe del genere se avrebbero voluto fare una come il flag una una bandiera finta per poter poi avere delle ritorsioni in altri paesi avrebbero fatto un qualcosa di minore ci sono stati anche molti atti di violenza negli stati uniti portati avanti da fondamentalisti ultimamente per esempio hanno attaccato salman ras di l'autore diversi satanici questo è versi satanici che mia madre mi regalò quando uscì e io ho letto abbastanza volte uscì nel 1980 cioè uscì nel 1988 fu registrato e nel 1989 l'arnaldo arnoldo mondadori editori lo pubblico quindi io l'ho lessi nel 89 come molti italiani ecco è molto interessante come libro ma noi lo interpretiamo come un libro umoristico io neanche ne compresi appieno lui e salman ras di da giovane io neanche ne compresi la portata completa delle insinuazioni che faceva sull'islam poi però cerca tendrete il significato mi raccomando quindi non so se l'aiatola credo come ini si è irritato così tanto da lanciare una fatua contro salman ras di molti pensavano chissà che c'è dietro l'attentato al world trade center comunque che fossero stati degli stupidi utili oppure dei veri attentatori a bordo di quei voli c'erano dei musulmani quello che è perso strano a tutti e che sono andati subito a bombardare l'afghanistan e poi sono andati a bombardare l'iraq bush padre non aveva avuto il coraggio di andare a bombardare l'iraq quando l'iraq di saddam hussein aveva attaccato il kuwait perché sapeva che si poteva aprire un vaso di pandora allora ha annichilato l'esercito iracheno lungo l'autopista che conduce da kuwait a baghdad però non era entrato nello spazio aereo iracheno quando invece bush junior ha attaccato direttamente l'iraq e lì si è scatenato il putiferio perché i soldati iracheni hanno offerto resistenza vestiti da civili hanno fatto i partigiani perché tutte le mille miglia migliaia di organizzazioni terroriste islamiste fondamentaliste integraliste che c'erano in iraq e anche fuori dall'iraq andarono in iraq perché l'iraq si trasformò in un campo di guerriglia divennero attive si accusava saddam hussein di uccidere più di mille persone all'anno di impicarle e poi si seppe che la maggior parte di quelle persone non erano oppositori politici ma erano integranti di organizzazioni criminali terroriste che in nome dell'islam uccidevano persone in iraq perché volevano fare una rivoluzione islamica uguale a quella forse iraniana ecco per andare a difendere i cosiddetti diritti civili degli iracheni invece se ha fatto sia scombisciato tutto e buonanotte al secchio non sentite tante negli ultimi 23 anni circa il l'11 settembre 2001 non sentite tante 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 voi siete giovani molti di voi neanche siete nati nel 2000 magari sarete nati dopo il 2000 c'è un pubblico giovane eppure e non è vero quante ce ne hanno raccontate la verità dove allora mi raccomando commentate qua sotto secondo voi che è successo l'11 settembre 2001 è stata una false flag è stato un attentato vero perché gli stati uniti non sono la superpotenza che dicevano di essere sono vulnerabili oppure non so è stato un complotto voi che le avete scrivetelo qua sotto e compartite questo video affinché altri possano anche loro dirci la loro opinione in merito e vi lascio commemorando questa tragedia perché alla fine sono morte delle persone la cosa più grave arrivederci dal vostro sante gian e grazie per seguirmi